Sono decisamente contrari i sindacati all'esternalizzazione dei servizi all'Istituto di Assistenza San Giovanni Battista di Chieti. In particolare la UIL-FPL si oppone alla precarietà e chiede assunzioni a tempo indeterminato grazie ai concorsi. Ma il Consiglio di Amministrazione della ASPA, azienda pubblica di servizi alle persone che amministra le case di riposo, se per andare verso un'altra direzione, il CDA presieduto da Concezio Tilli si è riunito a fine ottobre. Da quanto si apprende nell'articolo del centro di Arianna Iannotti, ha dato mandato agli uffici di procedere, si legge nella delibera, una gara di esternalizzazione del servizio di assistenza per un periodo di tre anni in via sperimentale e nell'ottica del massimo contenimento della spesa. Un contenimento che però, secondo il segretario UIL-FPL Chieti e Marco Angelucci, non solo a lunga andare non servirà davvero a contenere i costi, ma contribuirà ad aumentare la precarietà del lavoro e a impoverire in questo modo il sistema economico territoriale. L'Istituto San Giovanni Battista presse assistenza agli anziani e ai disabili, 198 posti letto accreditati, di cui però attualmente possono essere occupati solo 114. 12 gli infermieri assunti e 15 gli operatori sociosanitari. Tigli aggiunge che l'ASP ha provato a fare i concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato, ma non è stato possibile dare corso al bando. La retta relativa alle prestazioni sociosanitarie risulta del tutto inadeguata a coprire i costi in quanto ferma al 2002 e ciò ha comportato la necessaria valutazione di modi alternativi di gestione senza ricorrere ad assunzioni dirette. Tuttavia Angelucci ribatte, bisognerebbe considerare che la Regione ha avviato un tavolo tecnico per la rivalutazione delle tariffe sanitarie e dunque è possibile che le erogazioni regionali siano destinate a salire.